Il genitore che da piccolino ti sprona perché vuole che tu poi sia il prossimo calciatore che a 19 anni sfonda e ti fa un contratto da mezzo milione in serie B, in serie A e tutto il resto. E quello, come dicevi tu, cambia un po' la percezione della passione perché non c'è magari più il padre appassionato di calcio per cui dai, 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 ma c'è il dai, dai che poi ci svolti la vita tutti, capito? Esaltare un ragazzo troppo piccolo, soltanto perché è più bravo a giocare, avere un tocco di palla diverso, però poi, cavolo, quel ragazzo lì se poi non sfonda, quello che vi dicevo prima io, ha vissuto degli anni importanti, fondamentali, di prepotenza, dove era convinto di poter spaccare il mondo semplicemente perché sapeva fare una cosa più degli altri. O semplicemente perché era cresciuto un po' prima degli altri. Bravo, però, cavolo, poi dopo cadirà più alto. Sì, questo è l'altro lato della medaglia.